Ciao ragazzi, sono Lappo007 e siamo tornati ad un nuovo video di MasterCard specialemente iscritti! Grazie ragazzi, siete dei grandi, vi ringrazio di cuore. Lasciatelo subito un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campagna, condividete il video con tutte le persone. Iscrivetevi al canale che vi metterò qui sotto in descrizione. Qui ci sono 4 spazi. Qual è il mio? Avete 10 secondi per rispondere. Bene, se l'avete indovinato, iscrivetevi al canale che arriviamo ai 50 iscritti con le mie sorelle. Con le mie sorelle! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Sì! Oggi faremo la sfida di casa di YouTube. metti una casa regalo. Per i 20 iscritti. Ok, quindi... che direi di iniziare? Questa è la rovescia? 3, 2, 1, via! Quindi si fa una casa regalo. Sì. Ok, allora... Vediamo qua... la darò... Ehm... Per un momento soltanto questo... Ehm... 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 prossimo... Tipo così... Tipo così... Sarebbe... Se no scrivete di no... Se no scrivete di no... Se sì scrivete di sì... Se no mettete... Un regalo... Scartato... Se sì mettete... Questo regalo... Ok... 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 Direi che così va bene... Ok... Ci sono delle partitelle... Non credo proprio... Ma vabbè... Al massimo non si... Ok... La parte... E difficile sarà il gioco...